amore dimmi cara cosa stai facendo la pasta fresca ma cosa i ravioli alla genovese ma cosa ci metti caro qualcosa ci metto hai messo le pette si e la voragine certo non dimenticare la maggiorana e l'aglio ci vuole lo sai certo e dimmi la carne l'hai presa da paolo o da carlo perché quella di paolo lo sai che è migliore e le animelle le hai messe annaccia le animelle e la ricotta si ma senti hai preso quella di varese di igore o di san pietro bala no perché anche quella di san pietro bala è buona ma io preferisco quella di varese di igore perché c'ha un su perché certo sì e le uova quante ne hai messo sei dodici o ventiquattro bianche o finalmente per non perdere tempo e la moglie vi consiglio di acquistare la pasta fresca dal pastificio artigianale le vecchie mura a conduzione familiare da ben quattro generazioni il pastificio artigianale vecchie mura situato nel centro storico di chiavari unisce la tradizione ligure alla tradizione piemontese con ricette tipiche delle tue regioni alcuni prodotti come i ravioli corsetti sono ancora fatti a mano come una volta col tipico mattarello e gli stampini in legno pastificio vecchie mura chiavari in via delle vecchie mura dodici